Presidente, un pareggio che la contenta? Mi accontenta perché abbiamo pareggiato, ma non meritavamo assolutamente il pareggio e dovremmo imparare dalla voglia che ci ha messo il gateo che paga l'inesperienza e basta, altrimenti non avrebbero mai pareggiato, anzi avrebbero vinto. Comunque ci sperate in questi play-off? Bisogna sempre sperare, altrimenti stiamo a casa sul divano che si sta meglio, però l'obiettivo era quello e ormai manca, siamo a marzo, ci speriamo dall'inizio e ci dobbiamo continuare a sperare. Come Presidente, a Rammarico, di aver perso qualche punto per strada? A Rammarico ce l'ho in altre cose, questo è calcio, a Rammarico per queste cose non ce l'ho mai. Come tu hai detto, a Rammarico è chi me lo fa fare, però ormai sono in ballo, Renzo, però Rammarico ormai sono qui e non ce l'ho mai, Rammarico ormai vediamo come va a finire, poi come dice Allegri ci riprovi all'anno prossimo.